Troppo ferocemente determinata l'area canatese strapazza l'alto casertano, i cui limiti d'altronde sono stati quasi clamorosamente evidenziati dalla voglia dei giallorossi che inseguivano fortemente il primo successo del 2022. Fatta questa premessa non c'è stata storia con un monologo dei padroni di casa che hanno interpretato al meglio la partita desiderosi di risolverla subito, non lasciando scampo ai modesti campani a cui non poteva bastare impegno e generosità. Tra l'altro sono andati in rete tutti gli attaccanti di Pagliari con sbaffo che ha realizzato un tonificante tris ed una prestazione complessiva che ha denotato come la squadra, passato il momento difficile, stia ritrovando la condizione migliore. Insomma ci voleva una gara del genere che si è messa quasi subito sui binari giusti, già all'ottavo la re canatese avrebbe trovato il gol con una punizione di Giampaolo che filtra tra una selva di gambe ma l'assistente segnala un fuorigioco evidentemente attivo con l'arbitro che annulla. Per l'ex Fiderdense c'è però da aspettare poco, al diciottesimo riconquista un pallone al limite e lascia partire un diagonale che si inzacca sul palo lontano dove Vitiello non può arrivarci. I giallorossi spingono forte sul gas e sbaffo qualche istante dopo al volo sfiora il montante alla destra del portiere. Al ventiduesimo discesa di Meloni sulla fascia, vanno a vuoto i difensori casertani e sbaffo stavolta pecca di sufficienza e tenta un colpo di tacco che si perde a lato. Prima dell'intervallo arriva comunque il 2-0 e il trentasettesimo con un traversone dalla sinistra di Giampaolo, Ferretti arriva lungo sul secondo palo e da pochi passi sbaffo ribadisce con facilità in gol. Non vuole correre rischi la capolista che la chiuda ad inizio ripresa, corner di Giampaolo e sbaffo quasi imbeata solitudine in corna di testa da pochi passi. Da vedere e rivedere il poker che arriva al dodicesimo, nell'azione sono coinvolti praticamente tutti gli avanti giallorossi che giostrano magistralmente il pallone che giunge alla fine a Minnozzi che sigla il suo primo gol con la maglia dei leopardiani. Gli ospiti si fanno vivi al ventesimo con una punizione di Maidana bloccata a terra da Urbietis. Poi c'è il tempo per arrotondare il risultato al trentaduesimo tiro di Senigalliesi deviato che diventa un assist imperdibile per Defendi che trasforma. E' a tempo quasi scaduto il 6-0 griffato ancora da sbaffo brava ad inzaccare sul cross morbido di Minicucci dalla destra. Finisce quindi in gloria anche per il risultato giunto da Roma che sicuramente non dispiace pur se tutti sono consapevoli che nella prossima doppia trasferta ci si giocherà parecchio. Intanto però si è rivista la recanatessa e formato giro di andata. L'avversario non sarà stato un granché ma la squadra è stata impeccabile per piglio ed atteggiamento. Il modo migliore è per prepararsi ai prossimi determinanti test. Giovanni Pagliari Giovanni una partita interpretata bene non avevamo molti dubbi ma la squadra ha avuto subito l'approccio giusto. Ci avete messo 18 minuti poi è andato via tutto liscio. Buona partita ma anche le altre che non avevamo vinto la squadra è stata presente. E' che noi nel calcio ci facciamo sempre condizionare al risultato però i ragazzi anche con la San Mettese non meritava la sconfitta. A Tolentino meritavamo di vincere. Domenica a Montecio oggi abbiamo fatto una buonissima partita. E oggi sono contento, sono sbarcati gli attaccanti, tante note positive. Però il cammino è ancora molto molto lungo. Diciamo l'avversario ideale, ci voleva anche una partita di questo genere contro un avversario oggettivamente modesto. Sì, diciamo anche lì non andrea per contradditti ma domenica a Pineto hanno perso l'ottantaduesimo dopo che hanno avuto l'occasione di passare in vantaggio. Non ha reso la vita difficile la San Mettese. A Tolentino, col Tolentino in dieci hanno paricciato 0-0. Ripeto, quest'anno molte volte è capitato di dire che gli avversari, io bisogna dare merito a questi ragazzi che d'agosto che si allenano in modo incredibile, che c'è un gruppo eccezionale perciò c'è anche merito a questi ragazzi. Poi, quello che succederà non lo so. Senti, l'infortunio a Meloni, visto che l'organico, soprattutto dietro, non è proprio in piena salute e le due ammunizioni e due centrali difensivi sembrate esagerate oggettivamente. Sì, anche perché il secondo riferante era lui che era stato trattemolo con l'albitro sbagliato. Sbagliamo noi, sbaglio io a fuori la formazione e sbagliano anche gli albitri. Senti, il Pineto ha vinto a Trastevere. È un risultato che a voi ovviamente non dispiace, anche se c'è questo fattore Pineto, insomma, a meno 9. Voi andrete domenica a Pineto, diventa una gara ancora più importante probabilmente. Sì, sì, la squadra sta in forma, viene da tre vittorie dopo il cambio di allenatore, però noi andiamo giù con la nostra consapevolezza, la nostra forza. Io sono sempre abituato a vedere la mia squadra, le altre le vedo per studiarle, per rispettarle, ma noi dobbiamo pensare ai nostri punti di forza, perché se stiamo lassù davanti da un bel po' significa che i ragazzi, se uno è primo, significa che è discretamente forte e dobbiamo pensare a questo e altri pensieri non mi distraggono. Tripletta di sbaffo, ci voleva, è anche il gol di Minnozino che si è sbloccato. Minnozio e Defendi anche, perciò è Giampaolo uguale. Sono tutti i gol importanti, ragazzi che ultimamente non trovavano le vede del gol, sono molto soddisfatto. Preferisco elociare i giovani che i vecchi, non hanno i sogni vecchi dei miei complimenti. Per noi la nostra forza sono i giovani, perché per a lungo andare e arrivare alla fine della corsa sono i giovani che ci fanno arrivare.